Non chiamateli cornetti, impasto diverso, calorie anche, ingredienti solo di prima qualità, biologici e sostenibili. I croissant ora viaggiano su quattro ruote grazie all'idea di due fratelli di Villa Santa Lucia, Diego ed Ivan. È la prima croissanterie mobile in Italia. Noi facciamo un solo prodotto, che è appunto il croissant che si diversifica dal cornetto, perché non c'è uova nell'impasto, è più leggero, è meno grasso, meno zuccherato anche, e è caratterizzato dalla presenza del burro. Noi utilizziamo un burro francese, dalla Normandia, e tutte le varianti, di cui ne abbiamo sette, sono contraddistinte da materie prime di eccellente qualità, quindi cioccolato che proviene dalla Francia. In realtà l'80% dei prodotti che utilizziamo è biologico. Ma per realizzare questo sogno, che i due fratelli inseguono da anni, c'era bisogno di un grosso investimento iniziale e senza le garanzie sarebbe stato difficile ottenerlo. Problema superato, grazie alla Banca Popolare del Cassinate e al Fondo Prima Idea. Sì, per fortuna loro hanno creduto in noi, infatti sarebbe stato ovviamente impossibile finanziare da soli questo progetto, quindi diciamo che c'è stato l'aiuto fondamentale da parte loro. Noi ormai da oltre dieci anni abbiamo il nostro fondo BPC Prima Idea che ha finanziato decine di attività dei giovani imprenditori senza garanzie, dando un finanziamento importante di oltre 50.000 euro e questa iniziativa imprenditoriale rientra nell'ambito del fondo. È una banca popolare del Cassinate sempre più vicino ai giovani, sempre più vicino al territorio, però devo dire che il territorio e la clientela sta dando grosse soddisfazioni alla banca, siamo ormai a fine anno, possiamo fare bilanci. Anche il 2019 vede la banca raggiungere un risultato economico strepitoso, aumentare il numero dei soci in controtendenza rispetto al panorama nazionale delle banche e di avere sempre più fiducia da parte dei risparmiatori. Colazione di qualità quindi grazie al supporto della banca. Croissant con crema al limone, alla vaniglia o al cioccolato. L'importante è che i prodotti siano il top, ma dove possiamo trovare i ragazzi di Croc? Fondamentalmente tutte le mattine, dalle 5 siamo davanti al piazzale della Fiat, dalle 7 ci troviamo a piazzale Miranda. Dopodiché in alcuni giorni anche nel Via Folcara, quindi nel campus universitario.